Sul Mona, Cupello, Chieti e Cerratina sono queste le quattro discariche in cui la Regione ha scelto, con la delibera firmata questa mattina, di destinare i rifiuti di Pescara e Provincia alle prese con una imminente emergenza dovuta alla chiusura della discarica di Collecese e Dispoltore prevista l'11 marzo. La delibera regionale lascia discrezionalità nella decisione di dove conferire i propri rifiuti al Consorzio Pescarese, mettendo a disposizione le riserve di volumetria nella misura del 5% in ogni sito. 51.000 metri cubi in totale che dovrebbero bastare fino al 31 dicembre 2012, per non vedere le scene viste a Napoli con cumuli di immondizia per le strade e raccolta bloccata per giorni e giorni. Noi abbiamo messo a disposizione, o meglio, abbiamo attivato le riserve per garantire una volumetria, quindi per evitare che si parli di emergenza, per evitare che qualcuno possa prefigurare scenari da monnezza per strada, per essere chiari, questa volumetria è sufficiente per tutto l'anno e sono riserve che ha attivato la regione Abruzzo in maniera responsabile ma solo per garanzie. Adesso dovranno trovare gli accordi i gestori. Chiodi e Didalmazio, oltre ad illustrare la decisione sull'emergenza, si sono espressi anche sulle polemiche politiche sollevate da questa vicenda. La regione, ha detto il Presidente, ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare, programmazione, autorizzazione di nuovi impianti e finanziamenti, tra l'altro previsti già nel piano dei rifiuti della precedente giunta del Turco, così come i termovalorizzatori. Circa 12 milioni di euro che sono tornati indietro perché i consorsi, ha detto l'assessore ai rifiuti di Didalmazio, non hanno saputo o forse non sono riusciti a spenderli. Da oggi però, tolleranza zero. I destinatari, i consorsi, gli enti locali, taluni casi che dovevano realizzare impianti, darsi da fare per realizzare impianti, evidentemente sono stati o inadempienti oppure ci sono state delle inerzie e dei ritardi. In taluni casi ci sono stati contenziosi amministrativi che hanno e che tengono alcuni impianti ancora bloccati. Stiamo cercando di colmare i ritardi che ci sono stati con un cronoprogramma molto rigido, pena il commissariamento da parte della regione. Tornando a Pescara, la discarica di riferimento in attesa dell'apertura di Piano di Sacco sarà nel Terramano ed in particolare ad Atrio a Notaresco, dove entro settembre dovrebbe essere completata Grasciano 2, vicende giudiziari e politiche permettendo. Naturalmente si prevede una stangata sulla bolletta dei cittadini pescaresi che pagheranno a caro prezzo i ritardi della politica che non è stata in grado di anticipare una emergenza ampiamente prevedibile. Bisogna puntare però sulla raccolta differenziata porta a porta, conquista che in Abruzzo è abbastanza recente la sola, in grado di spingere in alto la percentuale di riciclo dei rifiuti che oggi in regione si attesta al 34%.